Lei viene dalla terra e poi ritorna nella terra ma in realtà è un'espansione di la terra. Quindi la terra è il suo cuore e quindi c'è anche l'apparizione di Janava Devi che è la signora di più portafortuna che esista. Ovviamente voi potete dire Vishnupriya, Saccimata, sono tutte signore importanti, ma allo stesso tempo Janava Devi è stata il personaggio più popolare di tutti i Gaudiya Vaishnava dopo il Signore Città e Janavi è madre Ganga. Quindi abbiamo tutti i fiumi sacri oggi, tutte le donne sacre, tutte le sacre e divine Madre. Quindi oggi è un giorno estremamente speciale. dove possiamo riconfermare con le nostre divine donne il nostro impegno di proteggerle. E se uno vuole proteggere qualcuno la prima cosa che deve fare è renderlo felice. Quindi tutto quello che facciamo per Madre Terra, questo è nel spirito di rendere felice e di rendere felice tutte le madri. Perché noi non possiamo concepire questo. Non possiamo concepire di fare una cosa del genere a meno che non ci sia la benedizione della nostra divina Madre Radarani. E' per questo che lei è chiamata Brindavaneshwari. E noi veniamo chiamati Rupanugas, seguaci delle Raga Nugas, seguaci dei servitori della divina coppia, e anche servitori della guida di Srimatiradharana. Sotto la guida di Srimatiradharana. Questo si chiama Radha Dhasya. E per favore non dimenticate quello che abbiamo imparato da Prabhupada. E non vi dimenticate che questa cosa l'abbiamo imparata da Srimatiradharana e da Srimatiradharana. con minuti dettagli. E l'hanno spiegata con i dettagli più minuti. E anche con gli avvertimenti più particolarizzati. Che a nessuno venga a mente di pensare che è una roba cheap, come vada al supermercato la trovo insomma. No, dobbiamo seguire la linea del nostro maestro spirituale. E proteggere la altissima e sacra verità di Srimatiradharana. E questo sarebbe un altro argomento. Perché se non parliamo del servizio a Radharani, anche questo è incluso. Per esempio oggi stiamo celebrando il secondo giorno mondiale della rivoluzione del cibo. e oggi abbiamo uno dei più straordinari. E abbiamo su questo argomento uno dei più, dei speaker più straordinari. e lei è la donna che sta di fronte al mondo, che praticamente è una che rischia continuamente la botta fra capo e collo per Madre Terra. e il suo nome è Vandana Shiva. Il suo nome è Vandana Shiva. Lei oggi ha fatto una conferenza. nella quale lei dà tutte le informazioni su qual è la situazione adesso del pianeta. in relazione alla sicurezza, a riguardo al cibo. e anche molti altri aspetti. Io oggi ve la farò sentire questa domanda. in modo che tutti siano ben coscienti di quello che sta succedendo. Il convegno della rivoluzione del cibo. Il convegno della rivoluzione del cibo sta andando avanti per sette giorni. In questi sette giorni, tutte le importanti autorità della sicurezza del cibo del pianeta hanno partecipato. Sono delle grandi autorità che possono dare a tutti informazioni che voi e i vostri figli ancora non avete. Magari voi ne potete avere una piccola parte. Potete avere una piccola idea. di come sta la storia. Però invece questi conferenzieri di questo summit, di questa riunione, sono i più grandi esperti mondiali su questo fatto. Quindi se voi vi ascoltate che sono 21 lezioni e le traducete in italiano. Voi potete avere il più completo libro di guida su quello che c'è da fare. Quindi a questo punto si tratta di prendersi cura dei nuovi stadi, dei nuovi livelli della Terra. È più bello di vedere il film del Signore degli Anelli o di Matrix. E quello che sta andando avanti adesso nel pianeta è una cosa che non si è mai visto prima. Non ve lo potete nemmeno immaginare. È una cospirazione contro la sicurezza del cibo. E' eseguita e portata avanti questa cospirazione da all'incirca 5 compagnie. che sono compagnie di chimica. Delle industrie chimiche. Non avevano niente a che vedere con l'agricoltura. Questo è il Monsanto, i Dow Chemicals, Syngenta, Bayer, questo è il famoso. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Queste 5 compagnie. Proprio adesso. Adesso. Oggi. Loro controllano il 75% delle sementi che sono vendute nel mondo. Sia organiche. Sia organiche. E anche le OGM. E anche le OGM. Cosa fanno? Prendono tutte le sementi perché hanno l'argento, che sembra di essere come se li stampassero. Uno dei loro investimenti è Bill Gates. Bill Gates è uno degli investimenti. E' uno di quelli che fa più investimenti in questo campo. e Bill Gates è comprati tutte le compagnie di sementi. Ma non per farla andare avanti. Per avere il monopolio sulle sementi. E per vendere i semi solamente dove ci guadagnano di più. L'hanno fatto sotto il nome di garantire il supporto di cibo per l'umanità in crescita. Ma è questa solo pubblicità. Niente a che obbedere con la realtà. E in realtà questi vogliono il monopolio dei semi che sono le cose dalle quali tutti dipendono. Quindi per ascoltare Vandana Shiva è molto importante in questo senso. Perché lei ha cominciato una banca del seme. C'è qualcosa che si chiama l'accordo transatlantico o cosa del genere. trans-pacifico o transatlantico. E questi patti, cosiddetti patti, sono stati organizzati da quelle industrie che dicevamo prima. e loro sono quelli che portano via la democrazia dal mondo. E loro mettono il potere nelle mani di quelli che coperano con loro. E dovete capire una cosa. La cooperazione non è una persona. Le cooperative non sono una persona. Non c'è nessuno che ha responsabilità. Non c'è un responsabile. È una specie di fenomeno. E in questo fenomeno è diventato un processo molto matematico e calcolato di aumentare il capitale. E in questo fenomeno ha a che vedere con un matematico, calcolato, scientifico incremento di capitale. Loro in ogni caso incrementano il profitto. E loro lo vogliono incrementare a tutti i costi. Praticamente se noi andassimo nei dettagli, questa classe non finirebbe. E quindi questo signore, Andrew Kimbrough, è una grande autorità. È un legale dell'ambiente che ha combattuto in molte cause contro Monsanto. Anche lui ha parlato oggi. E c'è questo Jeffrey Smith che parla degli OGM, degli organismi geneticamente modificati. e quanto sono importanti per noi. Quindi... Mi farò ascoltare Vandana Shiva. E speriamo che funzioni il dato della traduzione. Chi è Vandana Shiva? Chi sono quelli che conoscono chi è Vandana Shiva? Se non conoscete lei, voi non conoscete una delle più grandi donne del pianeta. E è il piacere di Guru Maharaj di introdurla, di farcela conoscete. Specialmente oggi che è lo speciale giorno delle donne. Grazie. Grazie.